È il momento di maggiore discontinuità negli ultimi 70 anni, dalla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo la guerra, abbiamo la crisi della logistica mondiale, incremento delle materie prime, incremento dell'energia. Le aziende, le 180 aziende che hanno applicato e soprattutto la shortlist delle vincitrici, hanno nel periodo raddoppiato i fatturati, hanno moltiplicato per tre il numero di addetti, privilegiandola il radicamento sul territorio nonostante abbiano occupato posizioni mondiali in settori high-tech in tutto il mondo.